I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ragusa nel corso della nottata tra sabato e domenica hanno denunciato un trentenne tunisino per lesioni, violenza pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. I militari nel corso del normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio sono infatti intervenuti in località Punta Braccetto poiché era stato segnalato un uomo in stato di agitazione che brandiva un coltello. La gazzella giunta sul posto ha trovato un extracomunitario in evidente stato di alterazione psicofisica e spruvvisto di documenti che importunava appunto gli astanti ed avvicinato dai militari ha cercato anche di sottrarsi al controllo. I carabinieri sono comunque riusciti a fermarlo e in quella circostanza hanno anche trovato addosso al tunisino un coltello a seramanico della lunghezza di 16 cm che è stato poi sottoposto a sequestro. Viste le circostanze e la mancanza di documenti il trentenne è stato fatto salire sulla gazzella per essere accompagnato presso la caserma per procedere quindi all'identificazione. Tuttavia durante il tragitto l'uomo ha inscenato un malore costringendo gli operanti a arrestare la marcia per accertarsi delle sue condizioni fisiche. In quel frangente il tunisino approfittando della situazione si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli con violenza, trattonandoli e colpendoli a volto e agli arti al fine di guadagnarsi la fuga. Nonostante ciò i militari benché feriti sono comunque riusciti ad assicurare il trentenne ed accompagnarlo in sicurezza presso gli uffici di piazza caduta di Nassiri a Ragusa. In quella sede, dopo essere stato compiutamente identificato, è stato deferito in stato di libertà l'autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di arma, lesioni e violenza a pubblico ufficiale.